Stai per scoprire il più innovativo strumento di misurazione della temperatura senza contatto, ma ha inventato il nuovo termometro ad immagine IR FLIR TG-165. Non si tratta di un termometro laser standard che si limita a fornire una lettura digitale, no. Il TG-165 offre tutta la potenza termografica necessaria a vedere cosa è caldo e cosa è freddo direttamente sullo schermo, dandoti la possibilità di scoprire problemi invisibili, mostrandoti esattamente dove puntare per ottenere letture affidabili. Il FLIR TG-165 sfrutta il sensore termico Lepton brevettato da FLIR per assicurare la migliore qualità di immagine IR in questo campo. Una pressione del grilletto attiva il doppio laser per aiutarti a inquadrare l'area da misurare, permettendoti così di salvare immagini e temperatura per la documentazione. Con uno strumento così facile da usare, lavorerai più rapidamente, con la certezza di non trascurare niente di critico. Anche le icone e i pulsanti del TG-165 sono molto intuitivi e contribuiscono alla sua semplicità. Infatti, non è richiesta alcuna formazione specialistica. Il rapporto distanza punto di 24 a 1 consente di lavorare a una distanza di sicurezza maggiore rispetto ai normali termometri IR. Mostra immediatamente i problemi ai tuoi clienti o scarica le immagini e i dati salvati per creare in seguito un report. Il TG-165 è leggero e compatto ed ha una comoda impugnatura sagomata, estremamente robusto e coperto dalla migliore garanzia del settore. Nulla in questa fascia di prezzo può superare le prestazioni del TG-165. Non lavorare più alla cieca con un termometro IR ordinario. Vedi il calore con il nuovo termometro ad immagine infrarosso FLIR TG-165. Il nuovo TG-165 è lo strumento che risolve il problema di mostrare dove effettivamente c'è un problema di surriscaldamento. Per maggiori dettagli e video, visita FLIR.com slash TG-165.